Con la notizia shock della spalmatura delle partite ad ogni orario dal venerdì al lunedì, i tanto attesi calendari della Lega Pro sono usciti e sono stati presentati nella sede della Lega a Firenze. Tre gironi a 20 squadre ciascuno, con partite come detto a tutte le ore dal venerdì al lunedì. Le Toscane sono state inserite nel girone B e già la prima giornata, il 31 agosto, un gran derby che si giocherà a Ponte d'Era tra Tutto Cuoio e Carrarese. Il Prato sarà impegnato invece in trasferta a San Marino, il Ponte d'Era a Ferrara con la Spal, il Pisa riceverà il Teramo, la Lucchese, il Sant'Arcangelo, il Grosseto, il Piacenza e la Pistoiese dovrà affrontare al Melani l'altra favorita del girone dopo il Pisa, ovvero l'Ascoli. Il presidente Mario Macalli è intervenuto anche in merito alla recente elezione di Tavecchio come presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Sì, non è una sorpresa, abbiamo letto tante cose negli ultimi giorni anche su di noi che eravamo spaccati, abbiamo stati unitissimi come sempre. Oltre ai calendari è stata presentata anche Lega Pro Channel, il nuovo canale tematico della Lega Pro online per raccontare il campionato più grande d'Italia. In Italia non si paga a vedere le nostre gare e potranno vedersi un campionato intero in tutte le ore che vogliono, sull'iPad, sui telefoni, sui computer. Siamo il primo network al mondo, lo spiegherà Romigai stamattina, che ha fatto una cosa di questo genere.